Caffè Sauvage Corso Italia 1 Angolo Piazza Verga L.T. al servizio del cliente. Make the different. Da noi entri con un problema ed esci con la soluzione. Centro assistenza autorizzato Philips Aeco Gaggia. Specializzato in riparazioni di tutti i marchi per prodotti audio, video e piccoli elettrodomestici. Vendita a varietà selezionate di caffè. Vasta gamma di macchine da caffè automatiche e manuali con pagamenti personalizzati. Installazione in pianti satellitari, videosorveglianza, domotica, antenne ed elettrici. Vieni a trovarci, se c'è visto qui, il regalo mezzo chilo di caffè. Siamo a Gravina di Catania, nuova sede via Arcoleo e a Siracusa via Van Vitelli 56. Panificio Pan del Sole, 35 anni di bontà. Pane di casa, toscano, pugliese, panda, pane di camut, di farro, di timilia, del pescatore. Panificio Pan del Sole per i tuoi biscotti secchi, alle erbe, cookies, senza zucchero. Panificio Pan del Sole per la tua rosticceria, focacce ripiene, scacciate, strudel salato. Al banco di Pan del Sole tutti i giorni l'originale veloce prelibatezza pizzottella, la pizza express. A Catania tutte le migliori hamburgherie servono panini Pan del Sole. Cassone Elettronica, componenti elettrici ed elettronici, festeggia i suoi 50 anni di esperienza. Cassone Elettronica, specialisti in digitale terrestre, con le nuove antenne combinate, telecomandi TV, parabole satellitari, accessori per la telefonia cellulare fissa, antifurti, radiocomandi per cancelli automatici, cavetteria Hi-Fi, video PC, piccoli elettrodomestici. Cassone Elettronica e cortesia e convenienza nei suoi due punti vendita in via Patenel Romeo numero 6 e in via Conte Ruggero numero 17. Anfora Gioielli apre il nuovo punto vendita, Corso Italia 144. Anfora Gioielli da 35 anni offre le proprie creazioni personalizzate con gioielli unici, noro, argento e pietre pregiate. Da Anfora Gioielli brand più fashion, Saga Po, Chiu Jewels, Raso Gioieni, Mabina, Le Perle di Caltagirone, Gumon Gioielli, Bronze Allure, inoltre orologi Nautica Watch e Liu Jo. Anfora Gioielli è un outlet fornitissime ed un conveniente con prodo, argento, monete e diamanti. Anfora Gioielli, Corso Italia 144. Cresi Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda high-tech per uomo, donna e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Cronotec, Citizen, Fossil, Lorenz, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari. Cresi Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Cresi Time, in corso delle province 35. Amadeus Immobiliare, in via Civele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presso il Tribunale di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Dimensione Ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, forniture ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione Ufficio, vende Mont Blanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, In Tempo, Giuffrè, Moleschine, Quo Vadis. Dimensione Ufficio, via Firenze 8082, angolo Piazza Verga. Dimensione Ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. ACF Group, in via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fide e usioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, Polize, All Risk, aziende. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino, via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. FPNet di Francesco Porcino, via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Buonasera ai nostri amici, ormai amici telespettatori che ci seguono da casa tutti i venerdì alle 21. Sesta Rete rinnova il suo appuntamento, il Salotto della Giustizia, con un ospite veramente graditissima, che è l'Avvocato Meri Chiaramonte, che io ringrazio per aver accettato il nostro caloroso invito. Io devo ringraziare te del tuo affettuoso invito e della cortesia della tua, della produzione, insomma, delle persone che ti coadiuono in questo, in questo format. Ti ringrazio. Veramente persone gradevolissime. Ti ringrazio, sei amabile, in realtà l'ho pagata per dire queste frasi, ma vabbè, non lo sa nessuno. Carameri, alle nostre spalle c'è il Palazzo di Giustizia, qua siamo nella nostra location, il Bar Savage, quindi innanzitutto cosa ti offro? Un caffè, grazie. Un caffè, come lo vuoi, semplice o decaffeinato? Decaffeinato. Decaffeinato. Con le spalle del Palazzo di Giustizia, perché spessissimo, se non essenzialmente, parliamo di giustizia. Sta cosa è nata per gioco, grazie alla fantasia del nostro autore, Kille De Lucas, è diventata serie. Ormai le puntate sono tantissime che sono andate in onda, poi circolano su YouTube, insomma, ci seguono. La bellezza qual è secondo me? Che io, che sono un pochino anziano, tu sei più giovane, abbiamo la possibilità di trasmettere qualcosa ai giovani. Cioè facciamo un servizio, parleremo adesso di tribunale, di giustizia e innanzitutto vorrei cominciare dall'ultima cosa che hai fatto nella tua vita. Da poco sei stata eletta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per la prima volta. Per la prima volta. Bene, allora cosa ti chiederei? Di sapere cosa ti ha spinto, cosa ti aspetti di fare, cosa stai facendo, raccontaci. Ma cosa mi ha spinto? Intanto devo dire che mi ha spinto l'entusiasmo del nostro presidente, Maurizio Magnano di Sanlio, che mi ha appunto chiesto se volevo far parte di questo gruppo e questo è stato per me un momento bello perché io da parecchio tempo che frequento le aule del Palazzo di Giustizia e credo che il conoscere quelli che sono i problemi dell'avvocatura e fare qualcosa, tentare di fare qualcosa per risolverli sia una cosa importante per un avvocato. Poi l'idea anche di capire in che modo si può incidere, essendo all'interno di una istituzione molto importante, quella del Consiglio dell'Ordine, è stato anche un altro dei motivi che mi hanno spinto a accettare questa sfida. Sono stata ben contenta, sono stata eletta, voglio dire, io sono una penalista e in genere sappiamo come al Consiglio dell'Ordine sia una categoria poco rappresentata rispetto ai civilisti. Diciamolo. Diciamolo, diciamolo, è una categoria, anche se il nostro presidente, ma il presidente è il presidente, non ha una caratteristica, non si può dire che sia un penalista o un civilista, che sia il presidente, rappresenta tutti. Quindi anche questa possibilità di incidere all'interno di questa istituzione rappresentando i penalisti è stata per me una spinta ad accettare la sfida. Adesso mi rendo conto dell'enorme lavoro che il Consiglio dell'Ordine può fare e di quello che si fa, perché sono tantissimi i problemi che vengono sottoposti al Consiglio dell'Ordine. Immagino. In particolare una cosa che mi ha colpito molto è l'apertura non solo nei confronti della classe forense, quella va da sé perché rappresenta gli avvocati, ma nei confronti dei cittadini, perché tantissima gente si rivolge al Consiglio dell'Ordine per esporre dei problemi e per chiedere aiuto al Consiglio dell'Ordine, vuoi nella scelta di un avvocato, vuoi per comprendere in che modo può essere risolta una controversia, cosa fare e c'è una disponibilità da parte del Consiglio tutto, dei consiglieri, quindi una disponibilità nei confronti del cittadino che è veramente bella, c'è una cosa che tra l'altro non conoscevo. Mi piace, mi piace, mi piace, come me l'hai detto è quello che mi hai detto, quello che mi hai detto è come me l'hai detto e traspare il tuo entusiasmo. Sì. Io non svelo nessun segreto, io gli ho dato il voto a lei, pure io. Vero. E ho fatto cosa buona e giusta. Grazie. Bene. Prendiamo il caffè. Prendi il caffè. E nel frattempo che l'avvocato Meri Chiaramonte prende il caffè, io parlerei un po', nel senso che vi faccio questa domanda a lei che deve parlare, della tua storia professionale. Perché questa domanda? Perché i giovani ci seguono e tanti si stanno laureando in legge, non sanno cosa fare, se andare a insegnare diritto, se andare a fare l'avvocato, se andare a fare il magistrato. Magari raccontando ognuno di noi la propria storia o dando il proprio consiglio possiamo fare un servizio per i giovani. Prego. E questa domanda mi pone in una situazione un po' imbarazzante. Perché? Interessante. Perché? Ti spiego. Allora, io mi trovo personalmente nella situazione della quale parli tu, perché io ho una figlia che sta studiando giurisprudenza, c'è scritta giurisprudenza, alla quale io ho detto, bene, sono contenta di questa tua scelta, purché tu non faccia l'avvocato. Ed è, come dire, un... Frase fatidica che diciamo tutti gli avvocati chiamiamo fare l'avvocato. E quindi ti rendi conto che da una parte se io torno indietro, insomma, ti percorro la mia storia, credo che la cosa che io possa dire è una grande passione per questa professione. Cioè io sono contenta di avere fatto questa scelta con tutte le difficoltà, perché non nascondiamocelo. E le sofferenze. E le sofferenze. Le sofferenze. Le sofferenze, difficoltà perché io, come dire, non ho alle spalle una famiglia di avvocati, che da una parte può essere un EQ positivo. Non sono tanti i figli d'avvocati. Però, voglio dire, può essere anche da una parte negativo, visto da un altro punto di vista, perché spesso abbiamo delle... si trova a gestire delle eredità molto pesanti. E quindi, questo... comunque, le difficoltà di una persona... Insomma, ma tu perché hai fatto l'avvocato? Perché mi piace. E quando eri ragazzina? Perché mi piace. No, 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 io non volevo fare l'avvocato quando ero ragazzina. Non è stata una scelta di quelle che... delle grandi passioni della tua vita che tu dici. Io ho scelto gli studi in giurisprudenza, di giurisprudenza. E quando mi sono laureata, mi sono trovata... il momento, proprio lo stesso giorno in cui io mi sono laureata, ho detto, io devo capire, devo scegliere cosa fare. E quindi? E quindi avevo... per un attimo mi è passato nella mente anche la possibilità di fare il magistrato. Così è stato però un momento... Che cattivi pensieri! È stato... è durato poco, però... è durato poco. Allora ho detto, allora, io voglio fare l'avvocato. Ed è stata una scelta... immediatamente ho fatto questa scelta e io mi sono laureata, non lo dimentico, il 16 ottobre del 1986. E io dopo, era venerdì, io il lunedì successivo ero già presso lo studio del Mastro. Il lunedì successivo, cosa che dico a questo punto, se potessi tornare indietro direi, ma meno una settimana, una vacanza, un viaggio l'avrei fatto. Io il lunedì successivo ero presso già lo studio del Mastro. Come le foglie d'amore sono così, non si possono... E poi niente, poi... e poi diventa... Comunque è stata una scelta giusta perché sei l'avvocato conosciuto, affermato, ho avuto le tue soddisfazioni. Ma per concludere, quel messaggio è giovane. Quel messaggio è giovane, è difficile. Allora, io dico una cosa. Lasciamo perdere la situazione in questo momento, contingente, crisi... La nostra è una professione bellissima. È una professione però che... Cioè, se io devo rivolgermi a un ragazzo che deve scegliere, dico... Allora, scegli questa professione, scegli, ma devi essere fortemente motivato, devi avere una grande passione. Devi mettere in conto tanti sacrifici, tante notti passate allo studio, a lavorare, a studiare. E non... cioè, devi andare avanti, devi crescere in questo modo. Se inizi a fare l'avvocato, guardando all'orologio, sono le sette e mezza e venerdì, io non... Come si dice dalle nostre parti, è sciata che non spunta. Bene, è sciata che non spunta. Una strada che non porta da nessuna parte, ho tradotto per i non vedenti. E volevo sentirtelo dire, io le so queste cose, ma volevo... E sapevo del tuo animo, ma avevo piacere che tu lo dicesse ai giovani. E allora, visto che hai svelato, praticamente, gli anni che... Che ci separano. Che hai trascorso in questo palazzaccio, noi vogliamo sapere delle tue esperienze. Ecco, noi, in questo palazzaccio, il palazzaccio è il tribunale di Roma, dove c'è la Cassazione, ma insomma, tutti poi sono diventati palazzacci. Palazzacci, più o meno. E 30 anni di vita ha vissuto qui dentro. La nostra famiglia o antifamiglia è anche questa, se non solo questa. I nostri cugini, quelli laureati in legge, io li chiamo cugini, spero non si offendano, quelli laureati in legge che hanno scelto di svolgere altre funzioni, di fare i magistrati. Ma c'erano anche i signori funzionari del tribunale, anche quelli cugini, per carità. E dopo 30 anni, e data l'età che abbiamo, possiamo parlare con più chiarezza. Com'è stato, com'è il rapporto dell'avvocato penalista, parliamo, tu hai fatto solo penalista, dell'avvocato penalista con i magistrati? Sfaccettato. Com'è? Sfaccettato. 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 Speriamolo. Ma allora, io, dipende molto ovviamente dall'interlocutore, questo è più che evidente, dipende molto anche da come ti porgi tu all'interlocutore, dipende da diverse circostanze. Io devo dire che con la maggior parte dei magistrati ho un rapporto, potrei dire un ottimo rapporto, però vorrei spiegarlo questo. Io non volevo una tua risposta personale, per carità. Allora, tu dici in generale? Cioè, sta avvocatura e magistratura. Sono assolutamente contrapposte. C'è una contrapposizione. È una realtà. È una realtà. Ma perché? Ma io credo che si tenga a fini diversi. Cioè, nel senso che non si riesce a trovare una strada comune, a rendersi conto che nel processo penale l'unico fine che deve essere perseguito è il fine di giustizia. Verità e giustizia. Allora, se noi ci poniamo in questo solco, i rapporti saranno sempre ottimi. Ma se questo solco viene intervallato da ponti, fossati, diventa assolutamente difficile gestire il processo. Perché la realtà è che noi siamo parti di un processo. Cioè, nel processo noi abbiamo il giudice, abbiamo la difesa dell'imputata, abbiamo il pubblico ministero. Alto, alto. Stiamo entrando nel vivo. Io lo desideravo, ma casualmente siamo entrati proprio nel vivo. Ti devo interrompere per qualche minuto di pubblicità e poi non andate via. Immediatamente riprendiamo da questo momento qua che è veramente il fulcro della trasmissione di questa sera. A proposito. Caffè Sovage Corso Italia 1 Angolo Piazza Verga è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sovage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sovage con i suoi ambienti eleganti è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sovage Corso Italia 1 Catania. LTE al servizio del cliente. Make the different. Da noi entri con un problema ed esci con la soluzione. Centro assistenza autorizzato Philips Aeco Gaggia. Specializzato in riparazioni di tutti i marchi per prodotti audio, video e piccoli elettrodomestici. Vendita a varietà selezionate di caffè. Vasta gamma di macchine da caffè automatiche e manuali con pagamenti personalizzati. Installazione in pianti satellitari, videosorveglianza, domotica, antenne ed elettrici. Vieni a trovarci se c'è visto qui il regalo mezzo chilo di caffè. Siamo a Gravina di Catania, nuova sede via Arcoleo e a Siracusa via Van Vitelli 56. Panificio Pan del Sole, 35 anni di bontà. Pane di casa, toscano, pugliese, panda, pane di camut, di farro, di timilia, del pescatore. Panificio Pan del Sole per i tuoi biscotti secchi, alle erbe, cookies, senza zucchero. Panificio Pan del Sole per la tua rosticceria, focacce ripiene, scacciate, strudel salato. Al banco di Pan del Sole tutti i giorni l'originale veloce prelibatezza pizzottella, la pizza express. A Catania tutte le migliori hamburgherie servono panini Pan del Sole. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino, via Firenze 98 nei pressi del Tribunale. Dimensione Ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, forniture ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione Ufficio vende Mont Blanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, Intempo, Giuffre, Moleschine, Quovadis. Dimensione Ufficio, via Firenze 8082, angolo Piazza Verga. Dimensione Ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Anfora Gioielli apre il nuovo punto vendita, Corso Italia 144. Anfora Gioielli da 35 anni offre le proprie creazioni personalizzate con gioielli unici, in oro, argento e pietre pregiate. Da Anfora Gioielli, brand più fashion, Saga Po, Chiu Jewels, Raso Gioieni, Mabina, Le Perle di Caltagirone, Gumon Gioielli, Bronze Allure. Inoltre, orologi Nautica Watch e Liu Jo. Anfora Gioielli è un outlet fornitissime ed un conveniente con prodo, argento, monete e diamanti. Anfora Gioielli, Corso Italia 144. ACF Group, in via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fide e iussioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, Polize All Risk, aziende. Amadeus Immobiliare, in via Civele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presso il Tribunale di Catania, agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Crazy Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda high-tech per uomo, donna e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Cronotec, Citizen, Fossil, Lorenz, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari, Crazy Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time, in corso delle province 35. Cassone elettronica, componenti elettrici ed elettronici, festeggia i suoi 50 anni di esperienza. Cassone elettronica, specialisti in digitale terrestre, con le nuove antenne combinate, telecomandi TV, parabole satellitari, accessori per la telefonia cellulare fissa, antifurti, radiocomandi per cancelli automatici, cavetteria Hi-Fi, video PC, piccoli elettrodomestici. Cassone elettronica e cortesia e convenienza, nei suoi due punti vendita in via Patenel Romeo numero 6, in via Conte Ruggero numero 17. Siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria e stavamo parlando di contrapposizioni, purtroppo storiche, tra avvocatura e magistratura, in Italia, fermiamoci all'Italia. Le parti accusa e difesa, ovviamente parliamo dell'accusa pubblica, il magistrato dell'accusa, che è collega del giudice e magistrato. E' magistrato. Ecco, esiste veramente questa uguaglianza delle parti del processo? No, assolutamente. Diciamo che se noi scorriamo le carte del codice e lo leggiamo, ci fermiamo alla lettura del codice, siamo assolutamente sullo stesso piano, ma non è così, non è così per gli strumenti che abbiamo a disposizione, non è così appunto per il... Allora, premetto che io non sono una fautrice della separazione delle carriere, perché non ritengo che separando semplicemente le carriere si risolvano tutti i problemi delle carriere. No, io le miscelerei ancora di più. Ecco, ecco, quindi su questo ci troviamo d'accordo. Quindi, però, è evidente la differenza tra il pubblico ministero e il difensore anche negli strumenti che hanno a disposizione. Noi adesso abbiamo a disposizione, per esempio, la possibilità di fare investigazioni difensive, ma io mi rendo anche conto nella pratica, quindi noi possiamo fare interrogatori, possiamo fare sopralluoghi, tutta una serie di attività che dovrebbero essere speculari a quelle che può fare il pubblico ministero. Ma non dobbiamo nasconderci assolutamente che quando noi portiamo l'esito di queste attività in un processo, quando le riversiamo nel processo, l'atteggiamento del giudice rispetto all'attività che ha compiuto il pubblico ministero, avvalendosi della polizia giudiziaria, avvalendosi tutta una serie di strumenti che certamente non sono a disposizione, ma a parte il fatto di potersi avvalere della polizia giudiziaria, l'atteggiamento del giudice nel valutare l'esito di queste indagini che sono state fatte dal difensore rispetto a quelle che vengono fatte dal pubblico ministero è completamente diverso, perché noi paghiamo una sorta di pregiudizio, nel senso che l'attività che noi compiamo è sempre funzionale all'attività, diciamo, al fatto, nel senso che noi siamo avvocati difensori e quindi in qualche modo la nostra attività è, non voglio usare termini forti, però stiamo difendendo un imputato, cioè la nostra attività è di difesa di un imputato nel senso negativo del termine, qua non stiamo parlando di una... Perché si crede che a qualsiasi costo l'avvocato venderebbe anche la propria dignità... Sì, sì, anche... E non è così, e non è così, e non è così, quindi, ma dico, questo è uno degli aspetti, evidentemente questa parità che è il codice, il nuovo codice, però ma c'è quasi 30 anni, e io mi ricordo quando feci le fotocopie, qui, quando la sera prima, l'indomani, che entrava in vigore questo nuovo codice, l'emozione che provavo, te lo dico con grande sincerità... E io con grande sincerità ti pongo proprio questa domanda, avevamo tutti grandi aspettative, mi ricordo lo sciopero degli avvocati perché si anticipasse l'entrata in vigore del nuovo codice, ha poi realizzato queste aspettative? No, non le ha realizzate, ma non le ha realizzate perché io credo che noi da un punto di vista culturale, di formazione giuridica, non è che non eravamo pronti, la nostra formazione giuridica non è, come dire, aderente a questo modello, al modello accusatorio che era stato, che si voleva introdurre, tant'è vero che poi tutte quelle meravigliose riforme, poi sono state vanificate di fatto da interventi della Corte Costituzionale, da vari interventi, cioè di fatto quel progetto che era assolutamente, come dire, perfetto nelle linee principali, poi nell'attuazione pratica di fatto è venuto meno, per dire, scusami, il riferimento ai riti alternativi, alla deflazione del dibattimento, ma dov'è questa deflazione del dibattimento? E non nascondiamoci che il mancato ricorso, perché si faceva un calcolo che grossomodo sarebbero arrivati a dibattimento un terzo dei processi, un terzo dei processi, quindi due terzi sarebbero stati conclusi nella fase dell'udienza preliminare, quindi con i riti alternativi, di fatto noi avvocati evitiamo anche i riti alternativi perché poi di fatto vengono vanificati dalle decisioni dei giudici, vengono vanificati perché io che devo spiegare a un mio cliente che la scelta del rito abbreviato è una scelta di fronte a un'evidenza della prova, è una scelta vantaggiosa perché sulla pena che sarà inflitta avrà una riduzione di un terzo, devo poi spiegargli quando ho la sentenza che di fatto il giudice prima ha aumentato di un terzo la pena come pena base e poi lo ha ridotta e ha vanificato. L'avvocato Chiara Monter si riferisce a quei casi dove ci sono più imputati in uno stesso processo, corrigimi se sbaglio, alcuni che hanno scelto di fare il rito ordinario hanno preso poi una pena più bassa rispetto a quelli che hanno scelto il rito abbreviato e hanno avuto il beneficio di un terzo di pena. Per concludere questo discorso che abbiamo introdotto benissimo del nuovo codice e in una storia importante un po' articolata dove per forza ci deve essere una lunga attività istruttoria, un'altra cosa che io ho notato e vorrei sapere il pensiero dell'avvocato Chiara Montero del proposito è l'assenza del nuovo codice del giudice istruttore. Il pubblico ministero deve fare l'appusatore, l'istruttore, non è impossibile questa cosa. Si è cercato, insomma c'è questa figura del giudice delle indagini preliminari che... Certo, certo. Infatti perché ti dicevo noi non siamo pronti, non siamo, non prima di essere pronti. Il vecchio codice, la figura del giudice istruttore era una figura importantissima, era una figura di garanzia che manca. A volte penso che bisognerebbe riflesserarlo. E chi lo sa. Senti, ti faccio una bella domanda ora perché sei stimolante al massimo. Cosa ne pensi del processo indiziario? Dove sai perché ti faccio questa domanda? Perché c'è proprio ora venuta fuori una corrente dei pensatori, ci sono anche magistrati, avvocati certamente, dove discutono molto su questa cosa. Cioè non si è contrario decisamente al processo indiziario. Il processo indiziario è già la prova che il colpevole può non essere assolutamente colpevole. Cosa ti senti di dire? È il famoso processo di omicidio senza cadavere? O il processo di teorema. O il processo di teorema. Sì, ma l'intervento, io credo che sia facile per tutti noi dire che il processo indiziario è un controsenso. Quando noi si dice da una parte si è stabilito in Costituzione che la colpevolezza deve essere provata ogni ragionevole dubbio e poi si ammette che invece bastano degli indizi con quelle caratteristiche che noi sappiamo per poter raggiungere a una sentenza di condanna. Quindi da una parte abbiamo un principio costituzionale molto fermo e molto importante e da un'altra parte poi la pratica che di fatto lo vanifica. Sì, ma la soluzione quale può essere? Adesso sono io che ti faccio una domanda. Qual è la soluzione? Io pensavo per esempio, ormai si sta concludendo il famoso processo Parolisi, non per parlare del processo Parolisi, ma questo uomo è stato arrestato con delle motivazioni da parte del GIP che ha emesso ordinanza di custodia cautelare. Venne condannato in primo grado, credo che prese l'ergastolo, però il GUP in sentenza lo condannò con altre motivazioni. Poi la Corte d'Appello ridusse a 30 anni, ma con altre motivazioni. E la Cassazione adesso con altre motivazioni ancora ha escluso questa? Eh, 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 eh. Insomma, senza voler parlare di quel caso che io non conosco, non ho una conoscenza giornalistica. Insomma, certe volte qualcuno ha detto che avremmo più possibilità di vincere un processo giocando a dati. È pesante questa affermazione. Sì, sì. Però, ancora una volta, Pettino, l'alternativa al processo indiziario, dovremmo auspicare un intervento normativo talmente forte da imporre, quindi da escludere l'indizio pur con quelle caratteristiche tra le fonti di prova e imporre tutta un'altra serie di attività che possono portare alla sera. Tu credi negli eventi soprannaturali? Proprio credere no, ogni tanto. E fai male, guarda, perché hai avuto la capacità di far lievitare il tempo, quindi è un fatto soprannaturale e il tempo è volato. Quindi la trasmissione sta per chiudersi. Io allora, visto, anche se non l'hai detto, ma l'ho capito, che anche per me richieda molto la giustizia in Italia, vive un momento di grande crisi, in un minuto, così saluti i nostri amici e con l'augurio che tu possa ritornare in questo salotto. E il tuo augurio per il futuro, per i nostri giovani, per questa giustizia malandata, quale può essere? In un minuto è difficile. Meglio. In un minuto è difficile. Mi metti in grossa difficoltà. Ma dobbiamo essere ottimisti? Ma guarda, sul fatto di essere ottimisti, sicuramente dobbiamo essere ottimisti. Dobbiamo sperare in una volontà politica, normativa, di fatto anche da parte dei magistrati, degli avvocati, di continuare a crederci e quindi di muoversi in questo senso. Io questo volevo sentire. Comunque è una cosa che ci accomuna a quasi tutti i penalisti, l'ottimismo. Ciao, è stato un piacere. Ciao, arrivederci. Caffè Sauvage Corso Italia 1 Angolo Piazza Verga è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sauvage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage con i suoi ambienti eleganti è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage Corso Italia 1 Catania. LT al servizio del cliente. Make the different. Da noi entri con un problema ed esci con la soluzione. Centro assistenza autorizzato Philips Aeco Gaggia. Specializzato in riparazioni di tutti i marchi per prodotti audio, video e piccoli elettrodomestici. Vendita a varietà selezionate di caffè. Vasta gamma di macchine da caffè automatiche e manuali con pagamenti personalizzati. Installazione in pianti satellitari, videosorveglianza, domotica, antenne ed elettrici. Vieni a trovarci se c'è visto qui il regalo mezzo chilo di caffè. Siamo a Gravina di Catania, nuova sede via Arcoleo e a Siracusa via Van Vitelli 56. Panificio Pan del Sole, 35 anni di bontà. Pane di casa, toscano, pugliese, panda, pane di camut, di farro, di timilia, del pescatore. Panificio Pan del Sole per i tuoi biscotti secchi, alle erbe, cookies, senza zucchero. Panificio Pan del Sole per la tua rosticceria, focaccia ripiene, scacciate, strudel salato. Al banco di Pan del Sole tutti i giorni l'originale veloce prelibatezza pizzottella, la pizza express. A Catania tutte le migliori hamburgherie servono panini Pan del Sole. Cassone elettronica, componenti elettrici ed elettronici, festeggia i suoi 50 anni di esperienza. Cassone elettronica, specialisti digitale terrestre, con le nuove antenne combinate, telecomandi tv, parabole satellitari, accessori per la telefonia cellulare e fissa, antifurti, radiocomandi per cancelli automatici, cavetteria hi-fi, video pc, piccoli elettrodomestici. Cassone elettronica e cortesia e convenienza nei suoi due punti vendita in via Patenel Romeo numero 6 e in via Conte Ruggero numero 17. Anfora Gioielli apre il nuovo punto vendita, Corso Italia 144. Anfora Gioielli da 35 anni offre le proprie creazioni personalizzate con gioielli unici, noro, argento e pietre pregiate. Da Anfora Gioielli brand più fashion, Saga Po, Chiu Jewels, Raso Gioieni, Mabina, Le Perle di Caltagirone, Gumon Gioielli, Bronze Allure, inoltre orologi Nautica Watch e Liu Gio. Anfora Gioielli è un outlet fornitissimo ed un conveniente con prodo, argento, monete e diamanti. Anfora Gioielli, Corso Italia 144. Cresi Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda high-tech per uomo, donna e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Cronotec, Citizen, Fossil, Lorenz, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari. Cresi Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Cresi Time in corso delle province 35. Amadeus Immobiliare, in via Civele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presso il Tribunale di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Dimensione Ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, fornitura ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione Ufficio vende Mont Blanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, Intempo, Giuffrè, Moleschine, Quo Vadis. Dimensione Ufficio, Via Firenze 8082, Angolo Piazza Verga. Dimensione Ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. ACF Group, in Via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fide e usioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, Polize, All Risk, aziende. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino, Via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Affida a noi la tua immagine. Affida a noi la tua immagine.